Ciao a tutti e bentornati nella mia stanza. Allora, siete pronti a fare il secondo viaggio all'interno degli anni rossi? Spero proprio di sì. Sigla! Salve! Bentornati! Vi aspettavo. Allora, oggi parliamo di un argomento molto importante che potete trovare sul vostro agent. Stiamo parlando del netrunning. Allora, so che tutti voi vi ricordate i famigerati e ruggenti anni XX del XXI secolo in cui il netrunner poteva entrare tranquillamente all'interno della rete e controllare tutto. E incursioni per avere l'accesso a banche dati a Bangkok, prenotare un aereo a Mosca, sapere come andava l'estrazione petrolifera nel Polo Nord, eccetera, eccetera, eccetera. Non è più così negli anni rossi. Scordatevi di poter fare queste cose. L'intera rete è infestata da black ice, da intelligenze artificiali malvagie, ci sono programmi demone a giro, quindi è veramente un casino. Tant'è che nel 2035, dieci anni fa, la netwatch fu costretta a chiudere la rete. Fortunatamente per i netrunner fu creato un nuovo linguaggio macchina chiamato Meta, un linguaggio che si basa più o meno sul protocollo di Linux e permette o ha permesso di ricollegare varie spezzoni, vari spezzoni della rete. Quindi adesso è impossibile per il netrunner girare liberamente dove vuole. Ogni rete è piccola, è isolata dalle altre, con un livello di protezione più o meno alto, però adesso le incursioni non possono più essere fatte in tutto il mondo perché la rete mondiale, come noi la conoscevamo nei ruggenti anni venti, è totalmente crollata e inutilizzabile. Cosa serve al netrunner? Qual è però il vantaggio di questa cosa? Il fatto, il vantaggio è che adesso il netrunner può agire insieme al gruppo. Basta avere un paio di occhiali come questi, che si chiamano, è un visore virtuality, è questo meraviglioso, ha tantissime luci, potete vedere una serie di congegni intorno, meravigliosi. E cosa succede? Con il visore virtuality il netrunner può camminare, può agire, può muoversi liberamente insieme agli altri membri della sua gang, perché il meta, il mondo della rete, si sovrappone esattamente al mondo reale. Ok? Quindi adesso anche il netrunner può andare in giro ed essere attivo all'interno del gruppo. Nel caso in cui il visore virtuality questo non ci sia, o perché è stato distrutto o per altre cose, a quel punto il netrunner è costretto a collegarsi alla rete nella vecchia maniera e essere isolato dal resto dei propri dei propri compagni. Questo ha portato, questo visore virtuality ha portato il netrunner a poter agire, come ho detto, anche nel mondo reale. Tant'è che adesso i netrunner possono compiere anche azioni INR. Ci sono due tipi di azione INR o NET. Azioni INR significano azioni in real life. Azioni net sono quelle che avvengono all'interno della rete. Durante ogni turno il netrunner può compiere un'azione in real life o una serie di azioni in net. Il numero di azioni che il netrunner può compiere, nel frattempo ci sono le litigate selvagge anche nel 2045, anche negli anni rossi, dicevo nel frattempo il netrunner, il numero di azioni in net che il netrunner può compiere è dato dal proprio punteggio di interfaccia. Ok? Oltre a il visore virtuality, che è questo, al netrunner servirà un cyberdeck. Ovviamente non ci sono più i cyberdeck cassettoni come erano quelli dei ruggenti anni 20, sono leggermente più performanti. Ci sono di tre tipi, da quello classico a quello del axe, l'unica differenza che c'è nel cyberdeck è il fatto di avere una serie di slot in cui poter inserire i programmi e le applicazioni che gli possono essere utili. Il capitolo netrunning di questo, scusate, ma abbiamo avuto un'interferenza nella rete, quello che si trova in questa app cyberpunk red, il capitolo netrunning procede con una spiegazione del combattimento e delle altre azioni che possono essere compiute dal netrunner e in più c'è una parte interessante più o meno che è la creazione di una rete ad opera del GM. vi ricordate nel manuale in cyberpunk 2020 c'era la possibilità, era spiegata la creazione del personale, della rete, o meglio era spiegato la creazione della fortezza all'interno della rete, addirittura se non ricordo male c'era scritto di poter usare per la struttura di potersi rifare alla, come si dice, alle parole crociate. qui la creazione è fatta oggettivamente bene e è estremamente utile, quindi permette al GM di prepararsi. la cosa che personalmente ho apprezzato, ho apprezzato enormemente, è il fatto che adesso i giocatori non si devono più trapanare le scatole a aspettare che il netrunner compia l'azione. la cosa brutta di cyberpunk 2020 era il fatto che il netrunner quando decideva di fare un'azione nella rete impediva di fatto ai giocatori di muoversi. quindi cosa succedeva? i giocatori andavano via da dove si giocava, andavano a prendersi da mangiare, a prendersi da bere, qualcuno andava a telefonare alla propria fidanzata o al proprio fidanzato, al proprio compagno o al proprio compagno eccetera, qualcuno ordinava la pizza per la sera, perché cosa succedeva? una incursione nella rete che durava effettivamente 3, 4, 7 secondi, al povero master portava via ore intere di sessione. quindi era veramente un rompimento di scatole non indifferente. ora col fatto che puoi fare le azioni INR che significano in real life e che hai il visore virtuality come questo che sto indossando, permette al netrunner di essere un personaggio attivo all'interno del gruppo, all'interno della gang, all'interno del party, scegliete voi il termine. quindi è un ulteriore, è un ulteriore miglioramento, un ulteriore miglioria del sistema del netrunning, tanto per capizze, del sistema di Cyberpunk Red che dimostra che al fianco di un sistema anni 80 e anni 90, come era il Fusion System da cui è avvenuto Cyberpunk 2020, da cui è avvenuto The Witcher, eccetera, eccetera, è possibile snellirlo un pochino. allora dopo questo breve video sul netrunning, perché ci sarebbe da dire tanto del combattimento, quali sono le applicazioni e i programmi migliori che il netrunner si può prendere per inserirlo all'interno del proprio cyberdeck, io mi fermo, anzi nei commenti sotto scrivetemi le vostre esperienze con i netrunner in Cyberpunk, se anche voi vedevate questo problema che era appunto il fatto che il netrunner dovesse giocare tra virgolette da solo, era una tragedia, l'unico modo per ovviare era riuscire a fare un sistema di regole molto più snello, ma secondo me snaturava il Cyberpunk 2020, era proprio il limite di quel sistema. facevi un'incursione che ti durava in tempo di gioco due ore in quello che si chiama fictional time, erano passati tre secondi, veramente una cosa bruttissima, brutta brutta brutta, e mi piaceva poco poco poco. Detto questo sapete cosa fare, iscrivetevi al canale, condividete, attivate la campanella, se volete supportare il canale c'è il link amazon dove poter comprare il manuale, il jumpstart kit, questo bellissimo visore virtuality, è tutto lì sotto, poi ci sono attivi gli abbonamenti, insomma non avete scuse per supportare questo canale. noi ci vediamo lunedì prossimo per la terza e ultima parte di Cyberpunk, in cui darò se possibile le mie dritte al GM, darò delle dritte al GM su come rendere la vita impossibile ai punk del proprio gruppo, noi ci vediamo per le consuete live, ci vediamo per un sacco di altre cose che bollono in pentola, e sapete insomma quello che dovete fare perché il canale ce la mette tutta per andare avanti. Mancano 90 iscritti, più o meno, forse un po' meno, arrivare a 2000, cerchiamo di arrivarci il prima possibile per far cominciare la fase 2.0 del canale. detto questo, ciao e alla prossima!